Ma che buona la barilla! Ciao raga, bentornati in questo nuovo video. Mi chiamo Connor e sono un giovane americano. Oggi sono super felice di fare questo video perché è il primo che giro in una lingua straniera. Appropriatamente vi volevo parlare del mio percorso con le lingue e più specificamente quello di italiano. Attualmente parlo 5 lingue e sebbene non le parlo perfettamente mi considero abbastanza poliglotta. Tuttavia, solo un paio di anni fa non ero per niente così. Infatti, se mi avessi chiesto qual era la mia materia meno preferita al liceo, ti avrei detto il corso di spagnolo che dovevo seguire. Dopo la matematica, naturalmente. Al liceo facevo parte della banda della scuola. Sia perché volevo suonare il sassofono come Kenny G, sia perché ogni paio di anni la banda andava intorno in Europa. Quando stavo per iniziare il penultimo anno di liceo, i direttori della nostra banda hanno annunciato il paese dove abbiamo fatto il tour. Avrete già capito. Era l'Italia. Allora, a quel punto, la mia conoscenza dell'Italia si basava esclusivamente sul poco che avevo imparato al liceo e sugli stereotipi. Cioè l'impero romano, il colossale, il rinascimento, l'unificazione, i mussolini, i gesti, i gondoglieri, i guci, la pasta. E inoltre, sapevo dire solo due parole in italiano. Ciao e cazzo! Durante le vacanze pasquali nel 2017 sono finalmente partito per questo primo viaggio in Italia con la mia scuola. Siamo scelsi a Fiumicino il 25 marzo. E per la prossima settimana abbiamo viaggiato con l'autobus attraverso tutto il nord Italia. Ho visto Roma, Firenze, Monte Catini Terme, Cremona, Venezia, Verona, Milano e centinaia di chilometri d'autostrada nel mezzo. Per di più, abbiamo fatto tre concerti. Il primo alla Chiesa Evangelica Valdese a Roma. Il secondo alla Chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze. E il terzo ad un liceo turistico a Trevisso. Avevo già fatto vari viaggi all'estero, ma questo viaggio in Italia mi è toccato unicamente. Mi sono divertito con vecchi amici e ho anche fatto nuove conoscenze. Più che altro, avevo finalmente conosciuto tutti questi siti e questa cultura che finora era niente più che un'immagine per me. Tuttavia, mi sentivo che mancava qualcosa. Avevo esplorato ampiamente l'Italia e l'ho adorata, però c'era ancora un livello più profondo al paese che non avevo sperimentato. Per apprezzarlo, sapevo di aver bisogno di imparare la lingua. Appena sono tornato all'Italia, mi sono messo a studiare l'italiano su Duolingo. All'inizio direi che è stato abbastanza facile fare progressi nell'italiano, a causa della mia conoscenza dello spagnolo. Però, dopo un paio di mesi, ha cominciato ad essere più e più difficile spingermi per continuare con lo studio. Credo che, quando si apprende una lingua nuova, questo periodo iniziale sia la parte più difficile per sommortare e per non morare. Si deve studiare con dedizione, ma senza avere un livello sufficiente per veramente godere della lingua. Quindi, per superare questo periodo, bisogna di trovare una motivazione chiara per la quale prosegui studiando ogni giorno. Personalmente, questa motivazione è stata la musica italiana. Durante quell'estate e l'ottono seguente, ascoltavo tutti i giorni artisti italiani. Cioè, a questo punto, Capo Plaza era responsabile per il 90% del mio vocabolario. Però, non ho trascurato i classici italiani come Tony Rennis e Renato Carossone. Infatti, avevo ascoltato la mia canzone preferita, Tu vuoi fare l'americano? Per tre mesi, prima di rendermi conto che il motivo per il quale non la capivo non era perché era troppo avanzato, ma anzi, perché erano una lingua completamente diversa da quello che studiavo io. Adesso, se ascolto queste canzoni, mi fa ricordare un sentimento come nelle prime settimane di Un Amore Nuovo. A dicembre del 2017, avevo finalmente deciso di guardare il mio primo film italiano su Netflix. Si chiamava Benvenuto Presidente e si trattava di un uomo che diventa, per casso, il presidente dell'Italia. Era un film banale, però sono questi i film più adatti all'apprendimento delle lingue, perché si capiscono facilmente, anche senza un vocabolario molto ricco. Poi, sono passato da YouTube, che ritengo sia una risorsa indispensabile. Potevo passare ore guardando contenuti che mi piacevano per i loro temi, e non solo perché erano in lingua italiana. Soprattutto, ho trovato che i canali dove vanno in giro a fare le interviste di strada, come De Pillo, Di Sciò e Giacomo Ockman, erano i più utili per me per capire la lingua parlata. Questo mi ha permesso di migliorare il mio italiano un poco tempo. Inoltre, potevo melgermi nella cultura italiana per poterla comprendere meglio. Attorno a questo periodo, ho anche letto il mio primo libro in italiano. Io non ho paura di Niccolò Amenitti. Ciò che con quel bel faccino sarebbe impossibile. È un libro molto avvincente, ma anche facile da capire, perché è narrato da un bambino. Lo consiglierei a chiunque voglia imparare l'italiano, e naturalmente anche gli italiani. Allora, tip numero uno per chi vuole imparare l'italiano? Ascoltare Capoplazza. Insomma, ero in grado di capire bene l'italiano, però non riuscivo a esprimermi bene. Perciò, ho deciso di scaricare un'app di scambio linguistico. Così, potevo praticare e comunicare con la gente, in un ambiente tranquillo e poco stressante. Ho conosciuto persone da tutta l'Italia. Roma, Catania, Pescara, Pergamo, Pai. Ed era anche molto carino, perché mi inviavano tante foto delle loro città, compiti inglesi, preseppi di Natale, eccetera eccetera. Per darvi un po' più di contesto, adesso ci troviamo negli ultimi mesi del mio ottimo anno di liceo. I miei amici e io stavamo progettando un viaggio in macchina attraverso gli Stati Uniti, ovvero un senior trip, come lo chiamiamo in America. Però alla fine è saltato tutto, ed ero rimasto ancora con la voglia di fare qualcosa. Prima, ho pensato ad andare in Islanda, perché c'erano voglia a basso costo dell'America, e nel 2018 tutti ci stavano andando. Ma poi, visto che stavo facendo conoscenza con tutta sta gente italiana, ho deciso di fare un altro viaggio in Italia. Quindi ho trovato una ragazza di Taranto che mi ha offerto di ospitare per un mese quell'estate. Finisco l'anno, mi laureo e mi preparo per partire. Allora, si può prendere un volo da Chicago a Roma, da Chicago a Milano. Ma ragazzi, diciamoci la verità, non ci sono americani che vanno a Taranto. Per questo, il percorso che dovevo seguire per arrivare in Puglia era un po' un casino. Da Chicago parto per Londra, e a Londra devo prendere un Pullman per andare da Heathrow a Gatwick. Appena arrivato a Gatwick, prendo un altro volo, questa volta per Napoli. Prima di tutto, devo dire che quando prendi l'aereo per raggiungere Napoli, la vista della città dalla finestra è una delle più belle che vedrai mai. Quindi sono già stupito. Però, questo non vuol dire che ero per niente peperato per quello che stavo per sperimentare. Cioè, a 18 anni erano stuzzicadenti, un po' un pacciatto e soprattutto avevo solo un anno di duolingo sotto la cintura. E inoltre ragazzi, forse vi starete chiedendo, ma perché siamo a Napoli se dobbiamo arrivare in Taranto? Eh, non vi preoccupare perché ci resta ancora il Flixpulse che avevo pronotato da Napoli a Taranto. Naturalmente però, erano le 20 di sera e non sarebbe partito fino alle 2 di mattina. Vi salvo la matematica, avevo un bel 6 ore da aspettare nell'aeroporto di Napoli. Per riscaldarmi un po' con l'italiano, entro in un piccolo negozio, prendo delle caramelle e chiedo alla camessa Eh, mi scusi, posso comprare questo? Ma andiamo avanti 3 ore di camminare su e giù nell'aeroporto e decido di uscire finalmente dall'aeroporto. Quando esci dall'aeroporto di Napoli, c'è una piccola zona dove i polmen si fermano per prendere i turisti. Però, visto che non è il servizio navetta privato della regina Elisabetta, i conducenti gentili di Flixpulse ti fanno camminare mezzo chilometro per arrivare alla fermata. E a mezzanotte, questo volevo dire che dovevo passare davanti al grege di tassisti napoletani affamati per un'ultima tariffa della notte. Inutile dire che il mio culo americano, vestito con una felpa universitaria, non era a loro altezza. Perché, se c'è una cosa che devi sapere, è che quando un napoletano sta cercando di venderti qualcosa, non si fermerà finché non ti priva dei tuoi soldi guadagnati duri. Quindi, riesco a mandare via tutti, tranne un tizio, e non scherzo, che mi ha seguito per i prossimi 45 minuti, cercando di convincermi di assumerlo come tassista. Ma così, potevo praticare l'italiano fino a quando non è arrivato al polman. E alla fine, abbiamo fatto un bel selfie. Allora, tip numero due per chi vuole imparare l'italiano, prende un tassista napoletano come sense. Arrivo a Taranto e inizia un bellissimo viaggio. Ho visto il castello aragonese, dove ho fatto amicizia con i capitani della marina militare, tutti i tassoli della Magna Grecia nel museo archeologico, e anche i famosi grattacieli di Taranto. Venivo ospitato da una famiglia bellissima. C'era Enza, la nonna che è le cozze più gostose dell'Italia, Michele, un uomo con un baffi che mette vergogna a Freddie Mercury, e Giada, una ragazza che mi ha fatto vedere tutta la Puglia. Sono andato in Lecce, Brindisi, Matera, Porto Cesario, Polignano Mare, Bari e tante piccole città. Inoltre, Giada e la sua famiglia mi hanno portato a tanti pranzi della domenica e ceni di famiglia. Tra questa marea di italiani, non ho avuto altra scelta che imparare l'italiano. Ragazzi, non mi chiedete perché ho deciso di imparare l'italiano così, invece di andare ad una scuola di lingue come una persona normale. Sinceramente non lo so, ma devo essere masochista. Però fortunatamente ho subito capito che io, essendo americano, mi trovavo un vantaggio nel parlare, perché potevo semplicemente dire le parole in inglese quando non sapevo le traduzioni italiane. E gli italiani mi avrebbero guardato in stupore a causa delle mie mondanità. Se non ho capito, ti faccio un esempio. Hello everyone, mi chiamo Connor e studio il business. Sono un grande fan del fashion, il fitness, i film e il start-up. Se vuoi metterti in contatto con me questo weekend, puoi mandarmi una mail col tuo smartphone o trovarmi sui social. Eh, so cosa stai pensando, ma nonostante queste grandi capacità, sono soltanto un semplice mortale come te. Oppure un presto un po' di Tarantino. Tip numero 3 per chi vuole imparare l'italiano? Essere adotto da una nonna italiana. Dopo essere tornato ad Italia, ho continuato con lo studio di italiano e l'ho scelto come una concentrazione all'università, ma anche economia, perché ragazzi, voglio mangiare io. Ho sempre mantenuto il mio legame con l'Italia attraverso la musica, il cinema, la letteratura e anche YouTube. Inoltre, la soddisfazione che l'apprendimento degli italiani mi ha portato mi ha spinto di imparare altre lingue. Mi sento molto fortunato di aver potuto vivere questa esperienza in Italia e senza esitare consiglierei di vivere in un paese straniero se vuoi imparare una lingua straniera o semplicemente vedere una nuova prospettiva nel mondo. Infatti, 15 anni fa, non credo che sarebbe stato possibile per me raggiungere un'intesa così forte di un'altra lingua e cultura senza fare qualcosa simile. Per oggi, nel nostro mondo digitale, non è mai stato così facile stare con esso e circondarsi dagli stessi contenuti che consumano gli abitanti di qualsiasi parte del mondo. Ok ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Visto che vi stanno piacendo, ho l'intenzione di farne di più sull'Italia e la mia esperienza di apprendimento. Come sempre, non dimenticare di mettere like e iscriverti per non farti mancare i videofotoli. Alla prossima! I tifosi per le vie della città Sventolando le bandiere d'osso blu Verso il campo si incamminano iniziando con ardore alla loro squadra sono uomini e donne e doni età che il coro poi seguirai cantar Taranto rosso blu Taranto rosso blu Le domeniche si andrì Sì a te Taranto rosso blu Mi seguì e guancò Sempre di qui Andiamo tutti insieme Taranto rosso blu Così la nostra squadra Sempre di una squadra Grazie a tutti.